Il risveglio della domenica mattina a San Donato è diventata una triste abitudine. Puntuali, il sabato notte i vandali lasciano una sorpresa nella centralissima piazza del municipio, in via Brodolini. Proprio il municipio è il bersaglio preferito di chi proprio non deve avere di meglio da fare nella notte del weekend. Bottiglie di birra sono state lanciate contro la finestra dell'ufficio del sindaco e contro la vetrata d'ingresso. Ormai è diventato un appuntamento, diciamo, quotidiano a questi atti vandalici. La nostra comunità assiste inerme a uno spettacolo indecoroso. Devo dire che c'è un'attenzione maggiore da parte della compagnia dei carabinieri di San Cesario e mi auguro che quanto prima si possa mettere fine a questo scenario così derrorevole. In passato panchine di velte, palazzetto dello sport devastato e ancora i vetri del municipio infranti e ora il sindaco lancia un appello a cittadini e commercianti della zona. Chiedo anche ai commercianti e alle attività commerciali di collaborare con l'amministrazione comunale e con i carabinieri affinché questi balordi vengano arrestati. Altrimenti dovrò adottare delle misure un po' drastiche nella vendita dei superalcolici fino a un certo orario.